10 luglio 2013, siamo nel Monferrato, Piemonte, su una varietà bacca rossa tipica di questa zona che è il dolcetto e volevo farvi vedere e riconoscere una pianta colpita da flavescenza dorata, da fitoplasmi. Vedete molto evidente l'arrossamento sulle nervature, perinervale, la forma della foglia a embrice chiusa su se stessa, il racconciamento degli internodi e comunque una consistenza dei tralci molto debole, vedete anche il colore, non so se riuscite a individuare, molto debole. Quei grappoli che ahimè sono seccati quest'anno non li inputo direttamente alla flavescenza dorata perché abbiamo avuto un attacco abbastanza forte di peronospora, però è uno dei sintomi classici anche della flavescenza dorata, vedete che gli arrossamenti delle nervature sono sempre sulle foglie, anche più giovani, quindi sulla parte più alta, quindi il tralcio è preso completamente, il dissecamento dei germogli è un altro classico sintomo, anche interno, e quello che osservo è che siamo comunque sulla testata, quindi un dato che ci fa pensare sulla efficacia dei trattamenti insetticidi e sulla loro applicabilità. Quindi cosa farò in questo caso? Questo è l'intervento consigliato e determinato. Arrivederci! Grazie a tutti! Grazie a tutti!